tre uomini in barca di jerome k jerome in cerca di alloggio vedevo sulla riva intento a rievocare fra me quella scena quando giorgio osservò che quando mi ero riposato abbastanza forse mi sarei potuto degnare di dargli una mano a rigovernare così richiamato dai giorni del glorioso passato al prosaico presente con tutte le mie miserie scivolai nella barca e mi misi a pulire la padella con un bastoncino di legno e un ciuffo d'erba dandole poi una passata finale con la camicia bagnata di giorgio andammo a fare una passeggiata sulla magna carta island e contemplammo la pietra che si conserva in un padiglione e sulla quale dicono che la carta sia stata firmata sebbene non voglia compromettermi sostenendo che la firma sia venuta effettivamente là o come alcuni sostengono sull'altra riva a running mid per quel che può valere la mia opinione sono tuttavia incline a dar peso alla teoria popolare dell'isola di certo se al tempo fossi stato uno dei baroni avrei molto insistito con i miei compagni sull'opportunità di condurre un cliente viscido come re giovanni sull'isola dove c'era meno pericolo di sorprese e trucchi nella tenuta di anchor white house nei pressi di picnic point vi sono le rovine di un antico monastero dove si dice che enrico ottavo era solito aspettare anna bolena per incontrarsi con lei soleva anche incontrarla al castello di ever nel kent e anche da qualche altra parte vicino a sant albans doveva essere difficile per gli inglesi di quei giorni trovare un luogo dove quei giovani spensierati non stessero amoreggiando siete mai stati in una casa dove ci sia una coppia di innamorati è molto snervante vi viene voglia di andare a sedervi in salotto e li vi dirigete nel momento in cui aprite la porta sentite un rumore come se qualcuno si ricordasse di qualcosa e quando entrate emily è vicino alla finestra colma di interesse per quel che succede sull'altro lato della via mentre il vostro amico john edward se ne sta dall'altro capo della stanza e ammira estasiato e con trasporto le fotografie di parenti non suoi o dite voi indugiando sulla soglia non sapevo che ci fosse qualcuno no dice freddamente emily in un tono che implica che non vi crede vi gingillate per un po poi dite è molto buio perché non accendete la luce john edward dice che oh non se n'era accorto ed emily dice che il babbo non vuole che si accenda la luce di pomeriggio voi riportate ai due una o due notizie ed esprimete il vostro punto di vista sul problema irlandese ma quelli non hanno l'aria di interessarsene le loro osservazioni su ogni argomento si restringono a oh davvero sì e non mi dire dopo dieci minuti di conversazione su questo tono retrocedete fino alla porta e scivolate fuori accorgendovi con meraviglia che la porta vi si serra subito alle spalle senza che voi l'abbiate toccata mezz'ora dopo decidete di andare a fumare la pipa nella serra l'unica sedia che vi si trova è occupata da emily quanto a john edward se si può fare affidamento sul linguaggio dei vestiti è stato evidentemente seduto per terra i due non parlano ma vi lanciano un'occhiata che dice tutto quanto possa essere detto in una comunità civile e voi uscite prontamente chiudendovi dietro la porta adesso avete paura di mettere il naso in qualsiasi stanza della casa perciò dopo aver passeggiato su e giù per le scale per un po andate a sedervi nella vostra camera ma dopo un po questa perde ogni interesse quindi vi mettete il cappello e andate a fare due passi in giardino scendete il sentiero e passando accanto al gazebo vi sbirciate dentro ed ecco là quei due giovani idioti ammonticchiati in un angolo vi vedono ed è evidente la loro convinzione che voi per chissà quale malvagio proposito li stiate seguendo perché non riservano una stanza apposta per queste faccende e non costringono la gente a servirsene borbottate poi tornate all'ingresso prendete l'ombrello e uscite la situazione deve essere stata piuttosto analoga quando quel giovane scervellato di enrico ottavo faceva la corte alla sua piccola anna la gente del buckinghamshire doveva trovarseli di continuo fra i piedi mentre tubavano nei dintorni di windsor e di uraesbury e probabilmente esclamava oh voi qui enrico arrossiva e diceva sì che era venuto da quelle parti per vedere una persona e anna diceva oh che piacere vedervi non è buffo ho appena incontrato mister enrico ottavo sul sentiero e andiamo dalla stessa parte poi quella gente se ne andava pensando conviene girare a largo di qui finché va avanti questa solfa andiamo nel kent e andavano nel kent e la prima cosa che vedevano nel kent quando arrivavano erano enrico e anna che si trastullavano intorno al castello di heber o diavolo dicevano andiamo ce ne non se ne può più andiamo a salt albans un posticino grazioso e tranquillo sant albans e quando aggiungevano a sant albans c'era quella maledetta coppia che si baciava sotto le mura dell'abbazia poi molte di quelle persone se ne andarono a fare i pirati in attesa che il matrimonio fosse celebrato da picnic point fino all'antica chiusa di windsor c'è un tratto di fiume incantevole una strada ombrosa punteggiata qui e là da graziosi villini come corre parallela al fiume fino alle campane di housley una locanda caratteristica come lo sono la maggior parte delle locande sul fiume dove si può sempre bere un eccellente bicchiere di birra così dice harry se su un argomento del genere potete prendere la sua parola come varocolato l'antica windsor è nel suo genere un posto famoso edoardo il confessore aveva qui un palazzo e sempre qui il grande conte godwin fu dichiarato colpevole dalla giustizia del tempo di avere provocato la morte del fratello del re il conte godwin ruppe un pezzo di pane e lo tenne sul palmo della mano se ne sono colpevole disse il conte possa questo pane strozzarmi quando lo mangio poi si mise il pane in bocca e l'onghiottì si strozzò e morì passata l'antica windsor il fiume perde interesse e lo ritrova soltanto nei pressi di boveni george e io rimorchiamo la barca fino a oltre home park che si estende sulla riva destra fra l'albert e il victoria bridge e mentre oltrepassavamo d'acet george mi domandò se ricordavo la nostra prima crociera sul fiume quando eravamo sbarcati appunto a dacet alle 10 di sera e volevamo andarcene a dormire gli risposi che me ne ricordavo passerà del tempo prima che me ne dimentichi era il sabato prima di ferragosto eravamo sempre noi tre stanchi e affamati e quando arrivamo a dacet tiramo fuori la cesta le due valigie le coperte i cappotti e altra robetta e partimmo alla ricerca di una camera immobiliata passamo davanti a un alberghetto davvero grazioso con un porticato ricoperto di clematidi e rampicanti mancava però il caprifoglio e per una ragione o per l'altra mi ero fissato sul caprifoglio perciò dissi oh non fermiamoci qui andiamo avanti ancora un po e vediamo se ce n'è uno con il caprifoglio così procedemmo finché non arrivamo a un altro albergo anche quello era graziosissimo e sui fianchi dell'edificio cresceva effettivamente il caprifoglio ma a Harris non piacque l'aspetto di un uomo che se ne stava appoggiato contro la porta d'ingresso disse che non gli sembrava per niente una persona a modo e che indossava gli stivali orribili dunque proseguimmo ancora percorremo un bel tratto di strada senza incrociare altri alberghi poi incontrammo un uomo e lo pregamo di indicarcene qualcuno disse beh ve ne state allontanando dovete fare dietro fronte tornare indietro e arriverete al cervo dicemmo oh ci siamo già stati ma non ci è piaciuto non c'è il caprifoglio beh allora disse lui c'è il maniero proprio di fronte avete provato lì Harris rispose che non avevamo voglia di andarci che non ci piaceva l'aspetto di un tizio che ci alloggiava e che a lui non piaceva il colore dei suoi capelli e tantomeno le sue scarpe allora non so davvero come possiate fare disse il nostro informatore dato che qui ci sono soltanto quei due alberghi nessun altro esclamò Harris nemmeno uno come diavolo facciamo gridò Harris allora intervenne George disse che Harris ed io potevamo farci costruire un albergo apposta per noi se ci faceva piacere e ordinare su misura anche la gente da metterci dentro per quanto lo concerneva sarebbe ritornato al cervo le menti superiori non realizzano mai i loro ideali in nessun campo Harris ed io sospiramo sulla vanità di tutti i desideri terreni e seguimo George portamo la nostra zavorra al cervo e lo deponemmo nell'ingresso il padrone ci venne incontro e disse buonasera signori oh buonasera disse George vorremmo tre letti per piacere spiacentissimo signore disse il proprietario ma temo di non potervi accontentare vabbè non importa disse George ne basteranno due due di noi possono dormire in un letto solo no proseguì rivolgendosi a Harris e me Harris disse oh sì e che pensava che George e io avremmo potuto facilmente dormire nello stesso letto sono proprio desolato signori ripete il proprietario ma non abbiamo nemmeno un letto libero in tutto l'albergo anzi sta di fatto che abbiamo già dovuto sistemare due persino tre signori in un solo letto per un attimo vacillammo ma Harris che è un vecchio viaggiatore si dimostrò all'altezza della situazione ridendo allegramente disse oh beh pazienza bisogna adattarsi ci dia pure una branda nella sala del biliardo davvero spiacente signore ci sono già tre gentiluomini che dormono sul biliardo e due nella sala del bar non posso proprio accogliervi per stanotte riprendiamo alla nostra roba e andammo al maniero era un posticcino grazioso dissi che ritenevo che mi sarebbe piaciuto più dell'altro Harris disse oh sì che sarebbe andato benone e che non eravamo obbligati a guardare il tizio dai capelli rossi e del resto se quel poveretto aveva i capelli rossi non era colpa sua Harris stava affrontando la cosa con gentilezza e sensibilità ma al castello non ci fecero nemmeno parlare la proprietaria ci accolse sulla soglia salutandoci con l'annuncio che eravamo il quattordicesimo gruppo che lei respingeva nell'arco di un'ora e mezzo quanto alle nostre umili allusioni sulla scuderia alla sala da biliardo alla cantina l'albergatrice ci rise in faccia tutti quei recessi erano stati accaparrati da ore conosceva un qualsiasi posto in un paese dove potessimo riparare per la notte beh se eravamo disposti ad arrangiarci ma attenzione di certo lei non la raccomandava c'era una piccola austeria a mezzo miglio di distanza sulla strada per Hayton non aspettamo di sentire altro afferrammo la cesta e le valigie i cappotti le coperte gli altri pacchi e partimo di corsa la distanza ci sembrò più simile a un miglio che mezzo miglio ma alla fine arrivamo a destinazione ci precipitamo ansimanti dentro il bar quelli dell'osteria furono villanissimi si limitarono a riderci in faccia nell'intera casa c'erano solo tre letti e vi dormivano già sette signori non accompagnati due coppie di coniugi tuttavia un barcaiolo di buon cuore che si trovava per caso nel bar disse che forse potevamo trovare dal droghiera accanto al cervo così tornammo indietro il droghiera era già al completo una vecchia signora che incontrammo nel negozio ci condusse gentilmente con sé per un quarto di miglio da una sua amica che occasionalmente affittava camere la vecchia signora camminava molto lentamente e impiegamo 20 minuti ad arrivare dalla sua amica ci allietò al tragitto descrivendoci mentre ci trascinavamo dietro di lei i vari dolori che aveva alla schiena le camere dell'amica erano tutte affittate lì fummo consigliati di tentare al numero 27 il numero 27 era al completo e ci mandarono al numero 32 e il numero 32 era completo poi ritornammo sulla strada maestra e harris si sedette sulla cesta e disse che non avrebbe proceduto oltre disse che quello gli sembrava un posto tranquillo e che gli sarebbe piaciuto morire lì prego a george e me di baciare sua madre per lui e di dire a tutti i suoi parenti che li perdonava e che era morto felice in quel momento giunse un angelo sotto le sembianze di ragazzetto e non sa immaginare nessun travestimento più efficace per un angelo con un boccale di birra in una mano e nell'altra qualcosa che era legato in fondo a uno spago e che gli lasciava cadere su tutte le pietre piatte che incontrava e poi lo tirava su producendo un suono particolarmente poco attraente simile a un lamento domandammo a quel messaggero celeste come più tardi si rivelò se conosceva qualche casa solitaria in cui gli abitanti fossero pochi e deboli con preferenza per le vecchie signore o i paralitici che potessero essere facilmente spaventati in modo che cedessero i loro letti a tre disperati o in alternativa se non poteva consigliarci un porcile vuoto o un forno dal calcio in disuso o qualcosa del genere egli non conosceva nessun luogo così almeno non nei dintorni ma disse che se desideravamo andare con lui sua madre aveva una camera in più e poteva ospetarci per la notte gli gettammo le braccia al collo sotto alla luce della luna e lo benedicemmo e sarebbe stato un quadro stupendo se il ragazzino sopraffatto dalla nostra espansibilità e incapace di sorreggerla non fosse precipitato a terra facendoci cadere a tutti addosso a lui harrys era così commosso che svenne così che dovette afferrare il boccale di birra del ragazzo e svuotarlo a metà prima di riprendere conoscenza poi partì di corso e lasciò che george e io portassimo il bagaglio era un villino di quattro stanze quello in cui abitava il ragazzino e sua madre anima pia ci diede per cena della pancetta calda che noi mangiamo tutta cinque libre seguita da una crossata di marmellata e due tazze di tè e poi ce ne andammo a letto di letti nella stanza ce n'erano due uno era a rotelle un metro per due e george e io dormimo in quello e ci rimanemmo dentro legandoci insieme con un lenzuolo l'altro era il lettino del ragazzetto e harrys lo ebbe tutto per sé la mattina lo trovamo con mezzo metro di gambe nude che spuntavano fuori dal fondo e george e io le utilizziamo per appenderci gli asciugamani mentre ci lavavamo la prossima volta che fossimo tornati ad hatchet non saremmo stati così schizzinosi nella scelta dell'albergo per tornare al nostro viaggio attuale non accade nulla di emozionante continuiamo a rimorchiare la barca fino a che non fumo un po' a valle di monkey island dove ci fermammo a far colazione aggredimo il manzo freddo poi ci accorgemmo di aver dimenticato di portare la mostarda non credo di avere mai provato in vita mia né prima né dopo di allora un desiderio di mostarda così violento di solito non vado alla mostarda anzi ne faccio uso di rado ma allora avrei dato mari e monti per averne non so quanti mari e monti possono esserci nell'universo ma chiunque in quel preciso momento mi avesse portato un cucchiaio di senape avrebbe potuto averli tutti quando voglio una cosa e non posso ottenerla in divento incauto a questo modo harris disse che anche lui avrebbe dato alcuni mari ai monti per della mostarda sarebbe stato splendido per chiunque quel giorno fosse arrivato con un barattolo di mostarda avrebbe fatto scorte di mari e monti per il resto della sua vita ma poi suppongo che sia harris che io avremmo tentato di tirare i remi in barca dopo aver ottenuto la mostarda nei momenti di eccitazione si fanno le offerte più stravaganti ma naturalmente quando ci si riflette si vede quanto siano sproporzionato in modo assurdo al valore dell'articolo richiesto una volta scalando una montagna svizzera ho sentito un uomo che dire che avrebbe dato mari e monti per un bicchiere di birra ma quando poi arrivò a un piccolo rifugio dove ne tenevano scatenò un putiferio perché gli avevano messo una bottiglia di bassa 5 franchi disse che era una propotenza scandalosa e scrisse al times al riguardo la mancanza di mostarda avvolse la barca di mestizia mangiamo la nostra carne di manzo in silenzio l'esistenza mi pareva vuota e priva di interesse ripensamo ai giorni felice della nostra infanzia e sospirammo ci rischieramo un po tuttavia sulla torta di mele e quando giorgio tirò fuori dal fondo della cesta una lattina di ananas e la fece rotolare al centro della barca sentimo che dopo tutto la vita era degna di essere vissuta tutti tre andiamo pazzi per l'ananas guardammo l'etichetta sulla lattina pensammo allo sciroppo ci sorridemmo l'un l'altro e harris si tenne per pronto col cucchiaino allora cercammo il coltello con cui aprire la lattina svuotammo completamente il cesto svuotammo le borse sollevammo le tavole dal fondo della barca trasportamo tutto sulla riva scuotendo ogni cosa non c'era traccia di alcun apriscatole harris provò ad aprire la lattina con un temperino ruppe il coltello e si tagliò malamente giorgio tentò con un paio di forbici e le forbici gli sfuggirono di mano e per poco non gli cavarono un occhio mentre loro si medicavano le ferite io tentai di praticare un foro nella lattina con l'estremità a punta dell'arpione l'arpione scivolò e mi capapultò fuori tra la barca e la riva in due piedi d'acqua fangosa mentre la lattina rotolava via illesa e andava a rompere una tazza da te allora perdemmo tutti la testa portammo quella lattina sulla riva harris andò in un campo e prese una grossa pietra accuminata mentre tornavo sulla barca per prenderne l'albero giorgio tenne ferma la lattina harris piazzò la pietra con la sua estremità a guzzo sul coperchio e io presi l'albero e lo tenne sospeso in aria e raccogliendo tutte le mie forze ce lo abbattei sopra fu la paglietta di giorgio che quel giorno gli salvò la vita lui conserva ancora quel cappello ciò che ne rimane e nelle sere d'inverno quando le pippe sono accese i ragazzi sparano balle sui pericoli che hanno affrontato george va a prenderla e la mostra in giro e la storia emozionante viene raccontata di nuovo con l'aggiunta di esagerazioni fresche ogni volta harris ne uscì con una ferita superficiale dopodiché io presi la scatoletta e ci picchiai sopra con l'albero finché non mi senti sfinito e depresso e allora toccò ad harris la battemmo fino ad appiattirla la battemmo fino a farla diventare quadrata la battemmo dandole tutte le forme note in geometria ma non riuscimmo a farci neanche un buco poi giorgio le si scagliò contro la costrinse a una forma così strana bizzarra soprannaturale nella sua folle ripugnanza che si spaventò e getto via l'albero tutti e tre vi sedemmo attorno sull'erba e la guardammo il coperchio era attraversato da una grossa tacca che aveva l'aspetto di un ghigno beffardo il che ci mandò su tutte le furie tanto che harris si precipitò su quella cosa la afferrò e la lanciò lontano in mezzo al fiume e mentre affondava le lanciamo dietro le nostre maledizioni poi risalimmo in barca e remamo via da quel punto senza fermarci finché non raggiungemmo Maidenhead Maidenhead di per sé è proprio snob per essere piacevole è il ritrovo della moda di tutti gli elegantoni del fiume e delle loro signore sempre acchittate oltremisura è la città degli alberghi pacchiani frequentati soprattutto da bellimbusti e ballerine è il calderone della strega dal quale escono quei demoni del fiume le lancia a vapore il duca del london journal ha sempre il suo punto d'appoggio a Maidenhead e l'eroina del romanzo in tre volumi pranza sempre lì quando va a fare bisboccia col marito di un'altra attraversiamo Maidenhead in fretta poi rallentiamo e affrontiamo con comodo quel vasto tratto oltre le chiuse di i boschi di cleveland indossavano ancora la loro delicata veste primaverile e si ergevano dal bordo dell'acqua in una lunga armonia e mescolanza di ombre di un verde fatato nel suo continuo incanto questo è forse il segmento più dolce del fiume e a malincuore guidammo lentamente la nostra barchetta via dalla sua pace profonda ci fermammo nella zona di ristagno appena a valle di kuhem e prendemmo il tè e quando fumo oltre la chiusa era già sera si era levata una brezza piuttosto decisa il nostro favore per miracolo poiché di norma sul fiume il vento è sempre a sfavore da qualunque parte si vada è contrario la mattina quando si parte per una gita giornaliera e si voga per un lungo pezzo pensando a quanto sarà riposante tornare a vela poi dopo il tè il vento gira e per tutto il giorno si è costretto a remagli in faccia quando poi ci si scorda del tutto di portare la vela allora il vento è decisamente favorevole sia all'andata che al ritorno ma ecco questo mondo non è che una prova dell'uomo è nato per soffrire come le scintille per volare in aria quella sera tuttavia evidentemente si erano sbagliati poiché ci avevano messo il vento alle spalle anziché di fronte rimanemmo pieti e tiramo su in fretta la vela prima che se ne accorgessero poi ci sdraiamo nella barca in atteggiamenti penosi mentre la vela si gonfiava e si tendeva e faceva gemere l'albero e la barca volò io timonavo non conosco sensazione più elettrizzante dell'andare a vela è quanto di più prossimo al volo l'uomo possa provare ancora eccetto nei sogni le ali del vento impetuoso sembrano trasportarvi verso una meta sconosciuta non siete più quei lenti pesanti meschini pezzi di argilla che strisciano come vermi sulla terra siete parte della natura il vostro cuore palpita contro il suo le sue braccia splendenti vi cingono sollevandovi contro il suo petto il vostro spirito è unito al suo le membra vi si fanno leggere le voci nell'aria cantano per voi la terra sembra lontana e piccola e le nuvole così vicine sopra il vostro capo hanno un'aria fraterna e tendete loro le braccia avevamo tutto il fiume per noi eccezione fatta per un'imbarcazione da pesca ancorata in mezzo al corso sulla quale sedevano tre pescatori noi filavamo sulle acque costeggiando le rive boscose nessuno parlava io timonavo avvicinandoci potremmo vedere che i tre uomini che pescavano sembravano vecchi e dall'aria solenne sedevano su tre sgabelli sulla barca e guardavano intensamente le loro lenze e il rosso tramonto gettava sulle acque una luce misteriosa e tingeva di fuoco le cime degli alberi e dava un'aura dorata alle nuvole ammassate insieme era un'ora di profondo incanto di estatica speranza e di nostalgia la piccola vela si stagliava contro il cielo di porpora e attorno a noi si estendeva un bagliore che avvolgeva il mondo in un arcobaleno di ombre e dietro di noi strisciava la notte ci sembrava di essere come i cavalieri di qualche antica leggenda e di veleggiare attraverso un qualche mistico lago nello sconosciuto reame del crepuscolo verso la grande terra del tramonto non entrammo nel reame del crepuscolo andammo soltanto a sbattere su quella barca dove i tre vecchi stavano pescando da principio non capimmo cosa fosse accaduto poiché la vela impediva la vista ma dalla natura del linguaggio che si innalzò nell'aria della sera intuimo di essere giunti in prossimità di esseri umani i quali erano seccati e scontenti harry sammainò la vela e allora vedemmo cosa era accaduto avevamo buttato giù quei tre vecchi dai loro sgabelli facendoli finire in un ammasso collettivo in fondo alla barca ora stavano lentamente e penosamente cercando di districarsi l'uno dall'altro e staccarsi del pesce di dosso e mentre erano al lavoro ci maledicevano non con maledizioni banali e frettolose ma con le maledizioni lunghe complesse e ampie che abbracciavano tutta la nostra carriera e proseguivano sul nostro futuro lontano includevano al completo la nostra parentela e tenevano conto di tutto quanto potesse riguardarci buone maledizioni corpose harrys disse loro che avrebbero dovuto esserci grati di quel piccolo fuori programma dopo essere stati seduti a pescare per tutta la giornata e disse anche che era costernato e afflitto nell'udire uomini della loro età dare così libero sfogo alla collera ma non migliorò la situazione dopodiché george disse che voleva timonare lui disse che era assurdo aspettarsi che un ingegno come il mio si esprimesse nel governare una barca meglio lasciare che ci pensasse un semplice umile essere umano prima che annegassimo tutti così prese il comando e ci portò fino a marlowe a marlowe lasciamo la barca vicino al ponte e andammo ad alloggiare per la notte alla corona